Il consigliere comunale di opposizione Antonella Santonoceto mette a tacere tutte le speculazioni nate dopo la scorsa seduta di Consiglio Comunale durante la quale ha votato assieme alla maggioranza il regolamento per la rottamazione dei tributi comunali. Il mio unico interesse, dice la Santonoceto, è quello dei cittadini e non ci sono in prospettiva cambi di casacca. Guardi, io non ho votato per un fatto politico, io ho votato dietro un ragionamento, sì sotteso alla politica, ma che comunque guarda sempre dritto a un obiettivo che è quello di garantire una qualità di vita sempre migliore ai miei concittadini gerresi. Questo per schivare e togliere qualunque dubbio da queste polemiche che stanno circolando in questi giorni. Il voto quindi è un voto politico, sì, ma è un voto politico ragionato e la rottamazione dei tributi era un atto dovuto, è un atto che stanno adottando tutti i comuni, quindi mi sembrava giusto. Colgo l'occasione per chiarire che io ho votato e voterò anche nel proseguo tutti gli atti che vengono o dalla maggioranza o dall'opposizione che hanno come obiettivo primario sempre e comunque il miglioramento della qualità di vita, degli standard e dei servizi che possono riguardare i miei concittadini, motivo per il quale ancora oggi io mi spendo in politica.